La Giunta Comunale di Castellabate, in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente, ha approvato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Da oggi si dispone l'apertura degli uffici comunali al pubblico esclusivamente per i servizi che l'utenza non può svolgere con strumenti informatici e telematici. Si potrà accedere presso gli uffici che svolgono le funzioni di sportello front office esclusivamente previo appuntamento e nel rispetto della vigente legislazione nei seguenti giorni e orari. Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11. Area prima amministrativa e servizi demografici lunedì mercoledì venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30. Area seconda economico finanziaria e tributi martedì dalle ore 11 alle ore 13, giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Area terza lavori pubblici e sue martedì dalle ore 9 alle ore 12.30, giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Area quarta governo del territorio e demanio martedì dalle 15.30 alle 17.30, giovedì dalle 9 alle 12.30. Area quinta polizia municipale mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. È stata inoltre approvata l'informativa che disciplina per gli utenti e anche per i dipendenti l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non recarsi negli uffici comunali in presenza di febbre o sintomi influenzali, di mantenere la distanza di sicurezza e di osservare le regole di igiene. Gli uffici sono stati opportunamente sanificati dotati di gel igienizzante agli ingressi e di divisori di sicurezza agli sportelli. Visti gli ottimi risultati raggiunti, seguendo scrupolosamente le misure di contrasto al contagio, anche gli edifici comunali devono rimanere un luogo sicuro, dichiara il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. Gli utenti dovranno abituarsi ad un nuovo sistema di comunicazione con gli uffici che sarà comunque efficace e vicino ai cittadini.